L'uomo dell'anno è l'onesto, una specie rara ma ancora presente nel nostro paese, lo scrive Beppe Grillo in un post sulla sua blog illustrato da una fotografia del magistrato Nino Di Matteo. Può sembrare un caso da manuale psichiatrico, scrive ancora il leader del Movimento 5 Stelle, un signore o una signora che non si fanno corrompere, che pagano le tasse, che insegnano ai figli il piacere dell'onestà.